Ciao a tutti, mi occupo di agricoltura sostenibile, in particolare di sviluppare e testare nuove metodologie per ridurre gli effetti negativi che le attività agricole hanno sul sistema suolo, acqua e atmosfera. Sappiamo tutti che gran parte dell'azoto che viene introdotto nel sistema agricolo tramite le pratiche di fertilizzazione non viene sfruttato in maniera efficiente dalle colture e va a causare una serie di impatti negativi sia sull'atmosfera, mediante rilascio di gas serra, che nelle acque superficiali e di falda tramite processi di eutrofizzazione. È un esempio lampante nella nostra laguna di Goro, che soffre di problemi di anossia e sviluppo di alghe. La mia tesi si è sviluppata all'interno di un progetto eolopeo, un progetto LIFE, chiamato Zeolife, che è stato capofilato dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università di Ferrara, in particolare dal gruppo del professor Massimo Coltorti, di cui faccio parte. Il progetto Zeolife è andato a testare una roccia che è presente nel territorio italiano, roccia che ha un contenuto di minerali particolari che si chiamano zeoliti. Queste zeoliti hanno proprietà interessanti dal punto di vista agronomico, perché possono influenzare le dinamiche dei nutrienti. Lo scopo dell'utilizzo di queste minerali è stato quello di ridurre il contenuto di azoto e reflui zootecnici e aumentare l'efficienza della fertilizzazione, una volta usati come ammendanti. Con la mia tesi io sono andato a studiare quelli che sono stati gli effetti dell'applicazione di questo materiale sulle popolazioni e l'attività microbica nel sistema suolo e sulla qualità delle acque e il trasferimento di nutrienti sulle colture. I risultati che abbiamo ottenuto sono stati molto incoraggianti, in quanto siamo riusciti sia ad ottenere un aumento della resa culturale che una riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti chimici in agricoltura, una riduzione del contenuto di nitrati nelle acque superficiali di falda e anche una riduzione delle emissioni di gas serra. Tant'è che questi risultati, sia del progetto che della mia tesi, ci hanno portato e consentito di sviluppare delle collaborazioni anche con aziende operanti nel settore privato, in particolare cito la collaborazione che stiamo attualmente portando avanti con Ferrara Bio SRL, che è un'azienda del territorio ferrarese, con la quale stiamo costruendo e implementando un macchinario a scala industriale per il trattamento dei reflui zootecnici utilizzando zeoliti naturali. Questo progetto si chiama Zero Nitro.